Alvaro de Campos Non sto pensando a niente, e questa cosa centrale, che a sua volta non è niente, mi è gradita come l'aria notturna, fresca, in confronto all'estate calda del giorno. Che bello! Non sto pensando a niente. Non pensare a niente e avere l'anima propria intera. Non pensare a niente e vivere intimamente il flusso e riflusso della vita. Non sto pensando a niente. È come se mi fossi appoggiato male. Un dolore nella schiena o sul fianco, un sapore amaro nella bocca della mia anima. Perché, in fin dei conti, non sto pensando a niente, ma proprio a niente, a niente.